Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione di Perugia Eterni. Benvenuti a tutti gli iscritti dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche delle prevenzioni e della riabilitazione nella nostra nuova dimora digitale. Cercheremo attraverso questo portale di rendervi partecipi di tutte le informazioni che ruotano attorno alla nostra professione. In questo periodo storico del tutto nuovo, consci delle enormi sfide ed opportunità che dovremmo affrontare. Il saluto del Presidente Dottor Massimo Angelini.